Iann è un ragazzo solare, divertente, molto preciso su tutto ciò che fa e un professionista a tutti gli effetti. Lo sport per me vuol dire sostegno, rispetto e soprattutto famiglia. Avere sempre coraggio, ci sono sempre due strade, una più difficile e una più facile. Magari se vai solo quella strada più difficile, magari se soppri questo ostacolo, magari dopo diventa una vita un po' più bella. E non mi piace perdere. Grazie 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 Grazie